Ho scelto di riflettere sulla parola urticante di questa settimana che è non violenza, perché sono stato positivamente colpito da una riflessione del direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, su questo tema. Interrogato da un lettore, egli giustamente sostiene che la non violenza può essere utilizzata anche in un disastroso e drammatico ventunesimo secolo e non è affatto un'utopia. Perché è una parola urticante non violenza? Anche se viene, diciamo così, dal Novecento, viene da una lezione gandiana e per questo si scrive per intero non violenza. La non violenza intanto non è un banale pacifismo, non è un vogliamoci bene e tutt'altro. Intanto forse è nata ricerca della verità ed è un'analisi rigorosa e critica della realtà che ci circonda. E la verità si cerca sempre non da soli. Ma la non violenza è anche obiezione. Ne sanno qualcosa i primi obiettori di coscienza al militare? Perché non avevano alcuna voglia, diciamo, di praticare le armi? Su tutti un sardo come Pietro Pinna, straordinaria figura della non violenza italiana? Quindi la non violenza è questa cosa, è questo pensiero lungo, anacronistico, forse sì, ma non è detto che ciò che è anacronistico è errato. Questo viene dal Novecento, probabilmente sì, viene dai drammi del Novecento, dalle guerre del Novecento, dai milioni di morti del Novecento, viene da un'analisi rigorosa di ciò che è stato il Novecento, per esempio nei campi di concentramento tedeschi, con il tentativo dell'eliminazione della soluzione finale degli ebrei, nella speranza che tutto ciò non accada mai più. Ma in terzo luogo, non violenza è amore per l'umanità. Amore per l'umanità è una cosa complessa, è una cosa complicata, perché si tratta di riconoscere l'altro, l'altro da me, e si tratta di riconoscere che l'altro da me ha qualcosa da dire che è esattamente, che ha esattamente la stessa legittimità che c'ho io. E insieme possiamo trovare una verità comune, o che ci accomuni, in una prassi. Questa è la non violenza, la non violenza è una cosa tosta, è una... si impara, si impara, non è banale buonismo. E dunque la non violenza è una prassi, una teoria e una pedagogia. Ce lo spiega molto bene l'opera di Aldo Capitini, che in Italia nel 61 fu il primo grande organizzatore, insieme a tanti straordinari intellettuali, tra i quali Morberto Bobbio, a organizzare la Marcia per la Pace, per Ugiassisi, che tanto successo ha avuto nel corso poi dei decenni, che tante generazioni ha allevato, che tante persone ha educato in qualche modo, ma vediamo come la non violenza possa entrare nelle nostre vite e nelle nostre vite quotidiane. Abbiamo detto che è innanzitutto una teoria. La teoria esattamente si basa sull'amore per l'umanità, sul destino, sull'interesse per il destino dell'umanità, sull'interesse per l'altro, che viene riconosciuto e dunque legittimato nella sua profonda verità. La relazione sostanzia alla non violenza. E anacronismo mi pare proprio di no, mi pare proprio di no, filosofi del calibro di Edgar Morelli, fenomenologi, ma insomma c'è tutta una corrente filosofica che si alimenta di questa idea della relazione con l'alterità come legittimazione della verità dell'altro. Penso a Paul Ricoeur, penso a Emmanuel Levinas, Insomma, c'è sicuramente una corrente di pensiero che rischia di essere condannata come anacronistica, ma chissà, come utopistica, ma chissà. E tuttavia ci insegna che è possibile attraverso la non violenza mettere l'uomo dinanzi alla capacità di affrontare i grandi conflitti. Quindi anche una prassi. Come si risolvono i conflitti secondo la non violenza? Bene, si risolvono attraverso il riconoscimento dell'altro, attraverso la prassi dell'obiezione di coscienza. E l'obiezione di coscienza è ciò che il male si rivolta contro, quando il male si rivolta contro noi stessi. La testimonianza dei primi obiettori di coscienza italiana sta lì a testimoniarlo. L'obiezione di coscienza di Pietro Pinna ebbe per effetto la galera. Pietro Pinna e gli obiettori di coscienza alla Naya, insieme con lui, sfidarono il potere perché pensavano che le armi fossero, diciamo così, una malaugurata condizione dell'umanità. Prendiamo spunto da questa prassi. La prassi è esattamente questa. La prassi è la possibilità di ritorcere, attraverso digiuno, contro se stessi, attraverso digiuno, attraverso delle prassi importanti, una lotta politica. Una lotta per la verità che diventa lotta politica. Questa è la prassi della non violenza e su questo bisognerebbe discutere, anche quando si pensa di essere disperati. In questo elemento di riconoscimento dell'altività c'è anche l'amore per la natura e del pianeta. Attenzione perché nella definizione della umanità, della non violenza, c'è una relazione stretta con la propria corporeità, che è natura, con ciò che mi alimenta, che è cibo e dunque natura, con tutto ciò che ha a che fare con la mia vita quotidiana nel mondo e nel pianeta da difendere. Ma in terzo luogo non violenza è anche qualcosa che si può educare e si può insegnare. E io auspico che possa entrare almeno Aldo Capitini, ad esempio, la sua opera, nei manuali di filosofia, nei manuali di letteratura, perché è importante che le nuove generazioni conoscono questo pensiero, questa azione, questa teoria, questa prassi, la capacità del pensiero lungo di andare oltre le guerre, di andare oltre i conflitti armati, di andare oltre le armi e stabilire un criterio per cui la relazione umana è fondativa dell'esistenza stessa dell'uomo. In questo senso, educare la non violenza significa educare l'amore per l'umanità.